La Costituzione in associazione temporanea di scopo dei promotori della rete delle terme storiche di Calabria, divenuta realtà nei giorni scorsi e finalizzata a rispondere all'avviso pubblico regionale per la concessione di contributi a fondo perduto, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel virtuoso percorso avviato di rilancio strategico del turismo termale, al quale stiamo continuando a lavorare in squadra con la Regione. È una novità assoluta per la nostra terra e per le attese e differenziazione, destagionalizzazione dell'immagine della proposta turistica e quanto dichiara Mimmo Lione, presidente della rete delle terme storiche di Calabria, esprimendo soddisfazione anche a nome delle importanti realtà termali e regionali aderenti e di comuni di Cercaria di Calabria e di Gallatro, socio unico della società terme di Gallatro SRL, per quella che è stata definita da tutti i protagonisti della nuova ATS, una pagina storica per il termalismo calabrese. Quello della rete delle terme storiche di Calabria, aggiunge Lione, è nato e continua a svilupparsi come un progetto aperto ed in continua espansione che deve e può nutrirsi di proposte, sollecitazioni e suggerimenti da tutti i territori, anche arricchendo, sottolinea, la stessa mappatura e promozione delle diverse fonti termali, patrimonio prezioso della nostra terra. Nel ribadire l'inversione di marcia impressa dalla compianta presidente Santelli rispetto alle attese ed esigenze del comparto termale, ma anche e soprattutto alla necessità di ripensare funzione, appeal, capacità turistiche e comunicazione unitaria, Lione coie l'occasione per sottolineare come attraverso partecipazione della nuova ATS al bando le stazioni termali potranno beneficiare di importanti risorse finanziarie per ripartire dopo le restrizioni e le chiusure della lunga emergenza pandemica.